freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete freelance camp è qualcosa di unico momento di incontro una specie di capodanno dei freelance una miniera di idee uscire dal tubo e aria fresca per la mente networking conoscenza incontrare nuove persone interessanti e riavbracciare vecchi amici adorati movimento bellissimo frullatore di idee è consapevolezza di non essere soli e va quest'anno ho il biglietto freelance camp è un'occasione alla quale non mancare assolutamente